Buongiorno, sono il dottor Zanna, sono medico chirurgo e mi occupo di chirurgia orale maxillofaciale da oltre 30 anni. Ha questa caratteristica fondamentale, quella prima di tutto di nascondere tutti i cavi di alimentazione nella colonna centrale, molto massiccia, ma anche dal punto di vista estetico sicuramente con una resa molto molto piacevole e la possibilità, viste anche le dimensioni, di poter nello stesso carrello operatorio andare a posizionare tutta l'altra strumentazione che normalmente e abbastanza spesso può essere utile nell'esecuzione di interventi di chirurgia orale, ovvero il motore per implantologia, il classico motore da implantologia, piezo surgery che lo stesso è uno strumento che ultimamente viene, non dico utilizzato rutinariamente, ma comunque sta avendo una grossa diffusione e l'elettrobistoli, quindi sostanzialmente tre apparecchiature abbastanza ingombranti che normalmente difficilmente riescono ad essere collocate in maniera razionale con i normali carrelli che vengono utilizzati nel normale studio odontoiatico, quindi questo tipo di struttura racchiude in sé tutte le caratteristiche per poter organizzare il tutto in maniera molto lineare, molto ergonomica e molto comoda. Altra caratteristica è quella che come per MyCart anche in EasyTray i supporti per la strumentazione sono ammovibili e ovviamente anche questi sterilizzabili, caratteristica anche questa sicuramente estremamente importante. C'è inoltre anche la possibilità di rimuovere sempre facilissimamente, proprio con un gesto, i tray che viste le dimensioni possono essere comunque tranquillamente termodisinfettati in un termodisinfettore tradizionale o in casi in cui uno abbia una struttura, abbia a disposizione delle autoclavi estremamente ampie anche essere sterilizzati. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.